oh ma 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 sono entrata anch'io adesso sono entrata anch'io adesso sei uscito e sei rientrato no 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 io ero già dentro cosa dici ma sono scemo io non ero dentro figurati quando devi fare l'imbecille non lo sai nemmeno fare ah doc ma lei oggi è entrato con i launcher speciali cioè non lo so te l'ho detto prima di controllare che fossi in tasa con luna no non sono entrato con luna sono entrato con minecraft normale forge modato guarda che bello vieni qua aspetta il mio bunker ma bunker di gta certo che hai preso tutto il grano vabbè lo lascio crescere un attimo e poi lo prendo guarda che bello che voglio fare qui oh e qui si vede una cosa su cioè no non si controlla si controlla aaaah guarda se vuoi basta che non torna e la vado no 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 non ti dico come sono stati ottenuti si si vabbè tappa pure se nessuno ha visto cioè i real si fa niente mentre avevi la cesta aperta ti ho erano 28 ah si 28 cioè io avevo la cesta aperta tu hai tappato allora i metodi con cui sono stati ottenuti guardi guardi ah hai visto ti ottenemelo forse ti ho anche da Tommy si spacca il grano però non si ripianta da Tommy si fa fare doppia scala muro ah io ripianto doppia scala muro cappella doppia scala muro cappella doppia scala muro cappella ma io no raga roda la ciulo sdox stasera dobbiamo technical fishing sei un fisciatore no sto semplicemente portando i pesci nel mio acquario dato che ci sono solo salmone prendi la sua stuc stoc stic stac ci vorrebbe un bel plugin che si faccia slash lock però non c'è per fare un albero ci vuole il serbo ok anche questa versione è abbastanza poi ci sono 48 di ferro vabbè è vero non li avevo raccolti sì allora no l'altra volta ho lasciato le cose cuocere solo che tu sei entrato e quindi hanno finito di cuocere mentre perché non mi ricordi mai di cambiare categoria perché non ho twitch aperto ma te lo puoi benissimo ricordare senza avere twitch aperto effettivamente effettivamente allora devo bruciare anche questo altri minerali non sì ho l'oro 1,2,3,4,5,6 ci vuole la legna ci vuole la legna ci vogliono le legnate doc per fare la legna mi piacerebbe tanto sapere non vuoi sapere quello che vuoi sapere no cioè come si fa la concrete? non lo so perché non è una crafting in casa mia? allora su un'idea ah white concrete mortar use the copyright fattibile su anzi stuc 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 dov'è lei? casa mia vuoi dormire? va bene bravo bimbo dormi un attimo ci è arrivato Polino e ti fa un bel pop e dormo sono venuto da casa mia per dormire vabbè no non puoi usare l'anvil ah gli sbatti la testa sopra puoi uscire da casa mia aspetta 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 tipo alta più di 20 blocchi usiamo la mia tanto c'ho stack di ferro e gli cade in testa e lo indovina cosa gli fa vedi questo fa magic capito bello buongiorno buon po' è terror quello str**o di terror non capisco perché ho detto è entrato Tommy lei vuole venire su MC arrivo arrivo ma lei mica non doveva venire non mi ricordo no no gli ho detto che venivo più o meno cioè hai detto che venivi ma non venivi perché ti esplodeva il computer no è la connessione che mi sta esplodendo 248 di ping su di discord ma vabbè io giocavo con 5 mil tu che c***o sei ancora in casa mia terror te lo dico non vivi più cioè visto che non entravi più ecco ho un altro inquilino non sei più tu no 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 non me ne frega un c***o no 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 vabbè dato che dato che tutti vengono a vivere in quella casa vengono a vivere ma non è vero siamo solo io io e Andre basta allora vengo io da allora vado io da dal doc dal doc no i testimoni di Geo non li voglio pure in casa tinton dica tinton tinton diciamo un bel saluto doc perché non metti perché non metti no non c'è allora resta lì fermo un secondo almeno mi dai qualche cosa doc mi dai qualche cosa che marvi non si può eh non lo so cioè non è che se uno non entra per tre settimane e sono tre settimane ah doc invece sì aspetti buongiorno ah lei saluta viene da sud quindi saluta in alto perché è bello salutare aspetta è troppo così è troppo è giusto volevo dire il soffitto è bello quindi lo serve da vicino la luce è bella i sassi sono belle i patati sono belli aspetti doc alzi la testa no con il cannocchiale devi vedere lo scrotto col cannocchiale che cazzo sono lunga no ho sbagliato volevo chiudere la porta ci hai combinato ho messo l'acqua ma l'ho tolta potrei venirti puoi andare a casa di Tommy dato che oggi non c'è è vero possiamo casa di Tommy casa casa 4 pali volanti ma ti ha ragione versione 104 più non posso ma dai ma perché devi perché devi metterlo uno di sotto una porca ti è sempre stata uno di sotto oddio di solito usavi un altro aggettivo doc doc vuole vedere una cosa unica visto che tu ti divertivi te non è riuscito un nuovo sketch di Marco io rispondo a Mattia così vieni con me si l'ho visto l'ho visto bellissimo ah guarda un po' qua hai creato un emote la tua emote ok è chiaro cioè io non lo so io rispondo a Mattia così ma l'hai fatto tu io rispondo così non voglio sapere se sono le palle che vanno su o quello che va di lato io ho solo tolto i barili ed è diventata questa roba doc ma sono i testicoli che vanno in su o quello che va di lato anche terror dica terror dica no vabbè tanto non ho niente all'interno ah fai alla alla di qua alla di là e mi sta allargando il gioco dio a c***e di ma letteralmente sto facendo un fps che c***o è ma da ma mi ha rimasto con mezzo mi ha rimasto mi ha rimasto dov'è che gli è rimasto attaccato allora io ricordo tutte le cose che ho in chest quindi non rubare doc ma io non ho lo spolli no terror chiamaci per tic aaaah io potrebbe avere non ho lo spolli qualcuno mi hai tolto il letto non io sei un sei un coglio anche io no come c***o arrivo lì ah non lo so tirati di sotto dammi le coordinate sono straricco ho un diamante dammi le coordinate troppo a porte eeeh 3.30 meno 4.50 e la madonna io me lo sono fatto tre volte perché ho portato andrei ho portato e no ho detto 3.30 e 4.50 ah va bene va bene arrivo ciao terror 104 ho scritto mattini ciao 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 mattia ciao cosa andrò a fare ah laftorri laftorri vuoi è ferro ferro fiamma fiamma è di ferro è ferro è fatto di ferro bello ferro ferro e rara si vabbè rara e rara e rara cos'è basta basta io ti offrivo un palo nel naso io lo prenderei in un altro posto e io un 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 io un fbi open up io ti offrivo un fbi io ti offrivo tu non sai ancora parlare in versione fento 4 forza di quella fintana lui è spefale lui è spefale no mi sono uno speciale molto spefale ma secondo me quelli che entrano in live e ci sentono così penseranno che siamo speciali 4.50 se tu lo vuoi tu lo sarai cos'è il prezzo delle big bubble alla coppa questa mano è la mia turo turo raga chi mangiava le big bubble da piccolo San Piero sapete almeno cosa sono no si sono le vabbè sono gomme delle auto da masticare sono le palle gommose Io l'ho mangiato una volta Poi sei morto Mi dispiace Poi è morto L'obiettivo di oggi Era farmare pelle E cominciare a fare le librerie Io di carto C'è una volontà Ma anche io ne ho continuato a prendere Ne ho 5-6 stack Vedo i pali Del Tommy Vedi 4 pali in croce del Tommy Però io Vieni qua A me serve il cibo Ciccio roba da Tommy Doc posso salutare pesantemente Salutato Aspetta io lo saluto così Cazzo volevo tirarti questa in testa Ah giusto che non crepa Peccato Mi dispiace Prendete lo spawn point da Tommy Sì appunto Scusa comunque Però era bello Il cazzo ha il letto di Tommy qua adesso Porco Anzi in verità devi ciularglielo Perché è lui che ti aveva rubato il letto Io l'avevo tenuto però poi Ciulo l'ascia Ciulo l'arco Ciulo la crafting Ciulo la casa Ciulo i blocchi Ciulo il letto Sai che non si ciula vero Sei così Dai Hai ciulato una volta Spacca tutto Sì No da Ah beh ve la vedete voi A me non me ne frega un cazzo Doc si dice la tia al contrario Doc lei non ha visto niente No questa è casa mia Ma infatti Dov'è quello l'ultima Almeno dormi qui Vieni Dai vieni qua Ti porto in casa mia È bellissima Bene vado a casa docca Vabbè cos'è un condominio Un condominio abusivo Puoi soggiornare ma non toccare E sopra c'è la soffitta Teniamo i bambini qua Ma che bello Aspetta c'è anche la sauna Guarda Vieni vieni Oh anche la sauna Qua vieni qua La sauna è qua Qua sotto Ma dove cazzo la vedi la sauna Vieni qui dove c'è il letto Qua Ti è la sauna Vieni qua Fatti la sauna Ah Sì la sauna Che bella la sauna È la sauna Aspetta Mi ci l'ho letto Mi spieghi dove cazzo Stai rompendo blocchi Te l'ho impiazzato tutto Puoi sempre qui Lo sai che non ti rompo niente Non ti rompo niente La zappa È la zappa Doc guarda No 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 Fermo 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 Ma cosa vuol dire Zizzo vai fuori Ma fuori entrambi Vieni qua Che ti zappa In lunga Quanto male fai Ho 1909 di ping La zappa Cos'è L'ho chiamata la zappa Allora l'obiettivo di oggi È prendere le librerie Giusto? Ho già tre di pelle Sì però se shifti Siamo Mi sa che qualcuno le ha rubato La 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 L'ascia Ma che Ma non è mia Birla Se tu utilizzi Dove cazzo Dove cazzo Sa 5 La 3 La 2 La 1 Allora No Doc mi dia la mia roba Ragazzi preparatevi per il The Rock Topus E' tornato E' proprio lui Signori E' tornato Il The Rock Topus Voi non lo vedete No Terror lagga un po' Sono un po' Ops E vabbè Ma che bello Giocare con questo Quadrato Terror è appena crepato Ho ostacoli di lato Oh Finissimo Minecraft Ma non rinasce Non rinasce The Rock Topus Hai visto Lo voglio uno Ne vuoi uno di The Rock Topus Ma il mio letto Sì Vuoi The Rock Topus C'hai un livello Il Doc a me non lo dà The Rock Hai livelli No Me l'ha sullato tutto il Doc E' un caso strano E' un caso strano C'è no 20 Ma che bello Ma va Giocare con questo Quadrato Ma porca puttana Avete rotto E infatti Terror Mannaggia te basta Siamo dei bimbi speciali Dipende Dipende Dai punti di vista Che poi Se ti guardi in F5 Sembra che c'hai un c***o enorme Sulla testa Che ridere Ma che bello Giocare con questo Quadrato Che scopo Di ostacoli di lato Non è successo Ok Se ricordi Andiamo a fare i pelle Beh se vuoi sì Tu vai Dio E vabbè E vabbè Was Slain By your man Di qua Terror Dall'altra parte No Qui Girati Dietro di te Eh sì Terror sono qui Vuoi smutarti Però per favore Un secco Eh no Troppo Non sto capendo Perché io Non posso fare E qui Imbecille Allora Vieni Terror Che andiamo a cercare Un po' di mucche Doc Quanti libri ha lei? Eh Cinque Non so No Meno Povero imbecille Nemmeno sa contare Non ce li ho È diverso Aspetta Quanta pelle hai Allora Non lo so io No Ce l'ho i libri Sono nello scantinato Ho quattro librerie Ce ne mancano quante? Undici Undici Allora io ne posso fare una Perché ho tre di leather Quindi ce ne mancano dieci Dieci Tre per dieci Uguali Trenta Trenta di pelle Ma come dire La sala enchanting Facciamo La privata Vedo La facciamo Sappiamo noi Sai già che la userai tutti Quindi non è che ha tanto senso Beh effettivamente poi si vede dov'è Quindi lì Non trovo delle mucche Non vi sento Eh Terror Rirold Alice Guardate Ma è mutato completo Imbecille Ti sei mutato Ok Ah io faccio Una torre Doc deve aiutarmi A cercare la pelle Sì Ma che cazzo È di Passato uno correndo È un tre Per tre Per tre Vabbè si fa Tre per tre Per tre Non fa Dire No sto cercando il risultato Come Non sai quanto fa tre per tre Per tre È Perchè ti infili La diorite nel naso Quando non ci sono Eh tonno con il naso Sì La diorite nel culo Non si mette alle persone Non puoi capire Tutto al più Lo puoi mettere A Tommy A lui fa bene Almeno Ti resta sano Ma io volevo un pollo A proposito Devo riabilitare chat Webcam Ehm Follower Ciao Alert follower Abilitiamo gli alert Cos'altro devo abilitare La webcam Eccola qua Mi sta andando malissima connessione Eh vabbè si è notato Sei scarso a intrattenere Me ne va Eh vabbè Sub Eh Sub Quanto faccio più FPS Di questo su Minecraft Ehm Perchè sto usando Optifine Senza delle mod Per quello Se no chiaro che Poi anche la live Tanto a me basta Che vada fluido Poi Cioè sto usando Forge Non è Optifine Vedi Minecraft Adesso ce n'è scritto E invece sto usando E' vero è con Forge Ehm Tanto che ho la chatta a destra E non a sinistra Perchè a sinistra Non c'è un cazzo Ma non è andato Giù Esci Fammi dormire E sono uscito Ehi Deve rientrare Oh ce l'hai fatta Ecco pentola E la fai mi vuole avere la 104 Per un giorno No a chi è No Peccato Domani cambio targa Tranquillo Prendo la 69 Doc ho portato Ventola Eccola qua Bellissima Guarda che bella La mia torre Genova A me piace sempre La torre Rocco Questa qui Posso darti una cosa Dopo però me la ridai Ma è il De Rocco Topus De Rocco Topus Tieni Cosa? E mi vieni qua Che te la do Bella scala Dove sei? Ah ecco Tieni Oh ma ce la fai Dove cazzo sei? Porta pentola a casa Ah è vero La posso portare con il lazzo Grazie Come posso fare Per non farla De spawnare Vai La metti nella barca No no Non va Non va Non posso usare la tartare No perché non la puoi usare Scusa Forse deve essere fuori dall'acqua No non ci credo Pensavo Aspetta Falla uscire No non si può usare proprio Vabbè Bisogna C'ho il pistone C'ho il pistone Vieni qua No cosa fai? Vento la stava prendendo da anni E ti faccio il pistone Eh si fai il pistone La porto in culonia Mi sembra l'unico modo È chiaro Il lazzo lo rivuoi? Dopo me lo dai Adesso no Te lo butto giù Aspetta Allora Come si faceva? Piston Redstone Ferro Sì 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 Ce l'ho ce l'ho Ferro Dov'è? Dai non dimmi che lo devo andare a prendere Ma lol L'automod rileva come termine offensivo il mao Vabbè lo consentiamo Lo aggiungiamo ai termini Permessi Così Così Che cazzo Fatta Aspetti 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 Resti lì Eh doc Che bello Muove pure la testa Aspetti Aspetti Ti infilo una leva in bocca I No Cosa hai fatto? Apri Di meno Aia io te la sto a prendere Posso il pistone e la leva Ci penso io Aspetta La sposto No aspetta Ok Eh sì Ci fosse solo il problema Che ho dimenticato che la leva Non sta soltanto Che cosa è successo? No Perché è andato giù? Dammi 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 La barca Pentola Sali Perché è andato giù? Brutta tro... Tartaruga di me Vai su Oh Sta tartaruga è un po' speciale Come si pregna stia Di me Non droppano niente Pentola dai Oh no Tartaruga sono proprio speciali Eh Sì 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 No 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 Sì è entrata Vado? Possiamo mettere poi il plug in? Sono sopra Vai ok Vai Eh sì ma puoi procedere Faccio io va bene Eh tu ritappa con la terra E dammi la leva per favore Ah giusto Eh devi salire Leva Leva Vuoi che ti faccia una torce? No Allora adesso si fa così qua No si può mettere Funziona lo stesso Io ti metto le leve Facciamo così Vai No no funziona Ce la faccio ce la faccio Vai pure a fare i cazzi tuoi No dai ti aiuto scusa Per favore Voglio divertirmi con pentola Va bene Addio Sì però devi lasciarlo rotto il plug Allora devo continuare a fare la torre Allora pentola Avanti Che aspetto Peccato che non è abbastanza stone Devo conoscerne altra Sì Allora sali Sposta Scendi Spacca Cosmo è alto Oddio mio Devo farla salire ancora di in qua Puoi lasciarla lì per favore Una bella Se vuoi una tua pentola te la vai a prendere Vai in cucina la vai a prendere Scappa Perché lo rompi con l'ascia Ti infile Ma boh non ha senso Cioè si rompe strano No la faccio salire ancora di un blocco Non può avere Possiamo andare a rimediare delle alghe dopo Che? Devo prendere delle alghe per dargli un po' di cibo Perché prima lo faccio ad altri sbaglio Basta l'erba marina L'erba marina te la prendo io Eh ma non sono riuscito a prenderla La prendo io L'erba del mare Se la vedo di ferro per prenderla Voglio fare poi un bunker sotterraneo tipo resort Il dock sort No davvero tipo credo che Prendo da prendermi i biscottini E mangiare appunto il ritorno Parto la line mentre mangi i biscottini Mmm bello Perché hai tolto i blocchi scusa? Perché era inutile Prima portavo la pentola E poi la padella Grazie Valzata ancora di un blocco sì Me la porterò dentro caso Oppure gli faccio uno stagno Ma portala dentro Doc si ricorda quando si facevano le cose belle Con l'erba sulla vecchia microonde Sulla 1 Oddio Eh ma quelle cose sono storiche Sì Non voglio accennare magari dei video sus Però potremmo tornarci a fare delle cose Sulla 1 Il backup non è mica andato perso Mi piace ingoiare Bene ora devo portare dentro Tieni Guarda che cos'ho Grazie Eh 19 Va presa con le forbici nel dubbio La vuoi riprendere Ma in teoria ti basta Per una pentola sola Facciamo così Ti posso fare Gli facciamo fare le uova Così almeno Eh ma allora Adesso la te regola Così nascono le pentoline Eh mi serve ancora una volta il pistone Anzi Dove la posso lasciare? Qui dietro? Che la vedo sempre almeno Qua Ci servirà una name tag Qui dietro Ma mettila qua 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 Dove ci sono le fornaci No 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 Perfetto Ma che bella Sì Ciao pentola Ci serve la name tag O non despona No in teoria non despona Ti serve questa L'erba marina? No puoi tenerla La lascio qua nel dubbio Sì no la tiene La tiene perché Non lo so Se la danneggio Se vuoi fare i pentolini Lo sai come Faccio le scodelline Sì Lo sai come lo chiamano Come lo chiamano mia nonna Il La pentola È piccola Il tegame Ah il tegamino Eh Sì Anche mia mamma Allora Tu volevi andare su GTA Tra un po' Sì io voglio Sono Più o meno 45 minuti che siamo su Microonde È una bella cosa Secondo te Se faccio tipo Un bunker Resort Sotterraneo Ci può stare Per ospitare Quelli che vogliono Intanto farmare Prima di farci una casa Sì ci può stare dai C'è stanze proprio piccole Però per un piccolo affitto Di un lingotto Di ferro Ogni anno Ogni due Ogni tre giorni Anche perché Sto scavando tanto Quindi credo che Forse Devo fare una cosa bella Questo buco Che sto facendo Lo sfruttiamo Io mi ricordo Sempre che Basta solo Anche l'1% Per evitare Come hub spawn Possiamo dormire Metta Dov'è la metta? Sì dormiamo Dormiamo pure Dopo ti devo far vedere Una cosa Ok dorma Dorma Sì sì Dormi dai Dopo lo vedrai Appena dormirai No Tanto non ho visto niente Se c'è qualcosa Nella parete Non ho visto Come fa Cosa Bruma Hai messo In modo che si possano Mettere No ho fatto soltanto Eh lo slash hat Possiamo aggiungere Ma perché Cosa hai fatto Per metterti Ho usato un comando Tieni Te la regalo Oh apprezzio Sono ritornato giù Ok Aspetti Doc Vado ad aggiungere Un plug Guarda Guarda come È pentolosa Questa pentolosa Mentre vado ad aggiungere Il plug in Rimani tu davanti Facciamo un piccolo reload Ah Che lag Allora vediamo Se funziona Doc Urca Tipo io prendo questo Faccio slash Ah ma che bello Slash At Ligea Perché non lo fa No non te lo fa fare Perché Ha bisogno di comandi Non so Non c'è un plug in Che lo possa fare senza No Ah no no È per me Sai Cerca qualche altro Slash Non lo so Va bene Dopo lo cerco Lo cerchiamo assieme Prima di dormire Allora Pentola c'è Dovremmo andare a cercare Puori pelle Dai vieni Aspetta Sto controllando Delle cose Per il Eh A te quale hai messo Simple head plug in Si Doc Venga su minecraft Quando lavoro Nella c'è un betta Quel cos'ha Di forno Porco dio Quando lavoro Di forno Spento Dio mio Se fermo Se fermo Basta Doc Mi pianto i semi Sulla testa Ma dai pianta Mettimi il bombigliale In testa Va bene Lo faccio subito Oh ma quanto gra Io faccio Ma l'hai preso tutto tu Almeno il tuo Fammi prendi Vabbè Vedi che il mio È sempre pronto Sempre pronto Ad essere utilizzato Si ma è vero Il mio ha fatto bene Quello il tuo mio Il tuo mio Non so fa schifo C'era ancora semi In testa No Gli ho tolti Dopo dobbiamo trovare Un bel plugin Che funzioni Mi hai fatto saltare E romperti La coltivazione Per un momento Ti sei fermato È stato bellissimo Si ho notato Loading libraries Libraries Failed Loading cervello Loading libraries Libraries Not found Si di solito Fa così Nel dubbio È tutto vero Se falisci La libreria Si Ma Doc Ma se io Prendo un uovo Di tartaruga E lo rinomino In pentola Funziona Deve essere Lo spawn egg Quello della creativa Però Cazzo Porco Gianfrancesco 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 Noo 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 Lasciami Stai Stavo Grazie Noo 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 Aspetta Vieni giù da qui Doc bar Io nel dubbio È esso così Vabbè In cambio ti faccio Delle carote d'oro Ma Va bene Vuoi tornare qui Un attimo Sono scesa Ma non ho recuperato vita Quindi Diciamo che Vabbè ti faccio Delle carote d'oro Le carote d'oro Intanto c'è L'oro di Tommaso Quindi vabbè Vieni giù Aspetta Ti tolgo le scarpe Anzi Tolgo tutto Meno che le scarpe Ma che cazzo Noo Il pesce Che cazzo Del pesce Dio mio Bravo Aspetta Che ci sistemo Sta draptor va Perché Non mi ha draptor Che cosa Cazzo No aspetta No Qua Perfetto Adesso Via Esci Esci Dovrebbe sistemarsi così In teoria Mettetela per favore Si prende un blocco Si va qua Capiamo Riapri Voilà Effettivamente Però io la devo tenere chiusa Perché sai Pesci Bello Vabbè A parte quello A parte che è più bella visivamente Sì Perché Se no ne metti una anche sopra Come si fanno Aspetta Go Go Mi daresti un po' di legno No no lascia No è più bella così dai Ma come entri Così ogni volta prendo il vetro Devo prendere Non hai No è qua Aspetta Stavamo dicendo No L'ho piazzata male Oh ma ce la fa Ecco Voilà Tieni Puoi lasciarlo anche aperto Guarda Però devi shiftarti Quando vuoi salire Devi fare così Ti metti al lato E salti Grazie per le carote Tanto finché l'oro di tonnase Ma respiri lì Sì 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 Qua è tutto blocco di respiro Mi frega un pesce Oh no No Non ho visto niente io Vabbè tanto non c'è niente C'è una miniera per prendere la cobblestone Mi rimetti il pesce lì Ti faccio diventare io un pesce E prendo Prendiamo i libri Andiamo a cercare qualcosa Oppure basta Aspetta Non è che hai preso niente No no Non ho preso nulla Prendi le librerie Fammi respirare E prendi le librerie Anche i libri vai Tieni 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 queste E anche No è nove Ne servono Giusto Volendo si può fare Un'altra libreria Dov'è le mie canne No no Ti ho dato la carta Ti ho dato la carta Io so Siamo a Quota C Ne mancano dieci Dai pian piano Ci serve anche l'enchanting Se vuoi questa Te ne faccio una subito Io l'ossidiana per l'enchanting Dovrai già averlo Ce n'hai sei Ti do due diamanti Se ne fa Due Ne ho per il nether E per l'enchanting Oh spero C'erò C'erò Dai vieni qua Cosa Vieni qua Cosa Vieni giù Ti faccio una cosa bene Che vuoi fare No Vabbè te la do Allora riprendele io Ah no dai Beh dai Tanto Per adesso tienila tu C'hai già tutto Tieni Aspetta che al cane Facciamo mangiare un attimo Ma perché fa sì con la testa Non è che deve ciucciare di più così Hai un cane speciale Come il padrone Effettivamente Allora Signori Grazie per essere rimasti fino a questo momento Noi ci vediamo presto con un nuovo video Magnet Grazie a tutti Grazie a tutti.